In merito alla tematica Vallo Tomo del Brione, il sindaco Betta informa di una lettera fattagli per venire in febbraio dai residenti dell'area del Monte Brione, che hanno indetto una raccolta firme in cui evidenziano tutte le loro preoccupazioni e la necessità di intervenire al più presto per mettere in sicurezza la zona. Rispetto ad altre soluzioni che in Trentino hanno visto in questi mesi molte polemiche per l'impatto del Vallo Tomo, scrive il sindaco, Il fatto che i cittadini della zona di pericolo indicano una raccolta firme che sollecita l'amministrazione pubblica ad intervenire con Solerzia deve far riflettere profondamente. L'amministrazione comunale, prosegue Betta, ha prodotto un progetto attento e oculato anche per quanto riguarda le questioni ambientali. Le tecniche moderne non permettono altri interventi se non quelli preventivati, chiaramente nell'ambito della ragionevolezza, costi-benefici e razionalità, conclude il sindaco.